Ricordo perfettamente come cominciato due settimane fa parlavo al telefono con un mio amico di Firenze e lui mi ha detto qualcosa e mi è venuta così, non so come e gli ha detto che qui a Torino c'era come il sole ma così tanto per dire qualcosa in interurbana e da quella volta non riesco a stare in Piazza Castello senza sorridere con le fontane, Palazzo Madama, Palazzo Madama, ma quanto è bella la nostra città E' un attimo ridursi così, ma ce la farai santo, ne uscirai, Torino fa? Schifo Più convinto? Schifo Brava Se inizi ad apprezzare in modo insostenibile Torino, corri ai ripari prima che sia troppo tardi Rivolgiti con fiducia al Centro Critico Sabaudo Un torinese che apprezza Torino fa del male a se stesso e agli altri Ricorda, Centro Critico Sabaudo Perché Torino può ancora fare schifo Dipende solo da te Piazza 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 Piazza